Comandante, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con i festeggiamenti in occasione di Santa Barbara, caserma aperta anche quest'anno e anche ai più piccoli? Certamente, per noi più che tradizione è un appuntamento d'obbligo quello di Santa Barbara perché è effettivamente una data di consuntivo e anche di propositi futuri. Poi ogni anno cerchiamo di dare colore a questa festa invitando quelle giovani promesse in cui l'immaginario del Vigile del Fuoco rappresenta la forza, l'eroe buono che soccorre le persone. E quindi ben volentieri, anche quest'anno, questi bambini, oltre ai canti e così a rallegrarci con le loro voci, sono state veramente simbolo di una, come dire, di grande vitalità. Ad oggi qual è il consuntivo dell'attività? Allora, il consuntivo di quest'anno, diciamo purtroppo siamo andati un pochino sopra con gli interventi rispetto all'anno passato, arriveremo a 4.500 su scala provinciale. Per fortuna con la stessa percentuale non sono cresciuti gli incendi, siamo appena superiori del 10% con questa tipologia di intervento e comunque i terramani possono stare tranquilli perché ogni volta rispondiamo con estrema professionalità, dedizione al servizio, ma soprattutto interpretando veramente i bisogni della gente con estrema attenzione.